Ci sono due tipi di fotografi. C'è il fotografo che cattura attimi e poi c'è l'artista che cattura gli attimi giusti. Nell'attimo giusto ci è presente anche la vita. Non tutti gli attimi hanno una vita dentro, anzi, forse sono pochi quelli con un'anima. Tutti gli altri sono momenti di attesa. Servono a riempire e a preparare quell'istante magico dove l'universo si esprime in tutta la sua forza. Tuttavia gli attimi colmi di vita non avrebbero alcun valore se non fossero presenti anche gli altri istanti. La vita sarebbe inutile se non ci fosse la morte. La morte è uno scorrere di attimi che preparano a una nuova esistenza, al rimanifestarsi dell'attimo giusto. Vita dopo vita vivo i miei attimi e spero di immortalarli per renderli il bagaglio del mio essere. ABI Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vita sarebbe inutile se non ci fosse la morte. Vieta dopo vita, comunque. Vivo i miei anni. E spero che i mortalazze le prenderli paganti del mio essere. Vivo i miei anni. La vita sarebbe inutile se non ci fosse la morte. La vita sarebbe inutile se non ci fosse la morte.